In piazza nazionale l'ex civico, con il suo sostenitore leghista, le questioni sono chiarite. Esodo clamoroso da fai sui territori, lasciano Ruffolo, Manna, Librino, Boccalatte, Raymond Delli e Pepe. La caldoriana fumo a sinistra con Lanzotti. Catello Maresca e Matteo Salvini celebrano il loro matrimonio politico oggi a Napoli. Alle 11 il leader della Lega sarà in città, a piazza nazionale, per la raccolta delle firme per il referendum, a braccetto con il magistrato candidato a sindaco. Come rivelato da Cronache, l'accordo tra Salvini e Maresca prevede che, in caso di confitta alle comunali del prossimo autunno, la Lega riserverà al magistrato un collegio blindato al Parlamento in occasione delle prossime politiche. Intanto, si mette male per il centrodestra. Una vera e propria fuga da Forza Italia sta letteralmente dissanguando il partito di Silvio Berlusconi a Napoli, ad avvantaggiarsi della diaspora e Gaetano Manfredi. La lista azzurri per Napoli, capitanata da Stanislao Lanzotti, sta infatti catalizzando l'attenzione dei moderati e liberali in uscita da FAI, e si propone come il pilastro centrista della coalizione PDM5S Centri Sociali che sostiene l'ex ministro. Partiamo da Salvini. Oggi a Napoli, insieme a Maresca, il leader del carroccio presenterà anche il simbolo della lista civica, civetta, che accoglie i legisti napoletani. La lista si chiama, prima Napoli. Con Salvini le questioni sono definite, dice Maresca, e siamo concentrati sui programmi e sulla capacità strategica, perché ci vorrà una squadra davvero con attributi per superare i 30 anni di disastri. Maresca ieri ha partecipato alla presentazione della lista civica, Napoli Capitale. Giornate come queste, sottolinea, dimostrano che le cose ce le scriviamo da noi. Questo è davvero il passo avanti della politica a livello nazionale, la coalizione di centrodestra unità. Per quel che riguarda Forza Italia, il partito è totalmente allo sbando, fuggono in tanti e il coordinatore cittadino, Fulvio Martuscello, non riesce a tamponare. La prima municipalità in particolare fa registrare a Dier Affica. Va via Alfonso Ruffolo, assessore municipale, seguito da esponenti chiave del partito di Silvio Berlusconi, tutti diretti verso Lanzotti e quindi Manfredi. In uscita Federico Manna, che raggiunge nella lista di Lanzotti Alessandro Librino, Alberto Boccalatte, Sandro Sant'Angelo e Alessandro Remondelli. Massimo Pepe, che si candidò al comune con FAI cinque anni fa, scenderà in campo con Azzurri, e quindi a sostegno di Manfredi, al comune, A inserirà cinque candidati per la prima municipalità. Grazie a tutti.